La parola di oggi è trasfigurazione, che in greco si dice metamorfosi, questo lo posso dire? Metamorfosi, sì, e fu trasfigurato, e si trasfigurò, cioè si metamorfi... Metamorfosizò, che è una parola tra l'altro molto ricca di evocazioni, visto che comunque negli scritti di altri autori esiste questo termine, il concetto della trasformazione... Il passaggio da una natura a un'altra, metamorfosi, il passaggio da una realtà a un'altra. Qui in realtà si tratta di questo, si tratta del fatto che l'umanità di Cristo diventa per un attimo trasparente della sua divinità. Si usa spesso questo termine nella Bibbia? C'è tante volte? No, non è molto limitato a questo contesto, è limitato a questo contesto, oppure si usa in altri contesti ma vuol dire un'altra cosa. È limitato a questo contesto in questo senso teologico, e qui è interessante perché poi il termine è profondamente ellenico, ma in realtà si fa allusione ad altro, si fa allusione alla scena del Sinai. Fu trasfigurato davanti a loro, apparvero Mosè e Delia che conversavano con lui, poi Gesù e Pietro dice una scemenza. Più o meno, facciamo tre tende. Facciamo tre tende, vabbè, ma lì può darsi anche se stessi pensando al tabernacolo del deserto, alla tenda dove Dio abita, allora rendi perpetua questa esperienza di noi con te, così come il tabernacolo rendeva perpetua l'esperienza della presenza di Dio in mezzo al popolo, e c'è una voce dalla nube, anche lì c'è la voce, la nube, tutta roba dell'Esodo, tutta una baradana dell'Esodo. Fuoco, fiamme e tutto quanto. Fuoco, fiamme e tutto quanto, e quindi è evidente che Gesù viene rappresentato come la presenza di Dio. Il concetto teologico sotto questa idea è che la trasfigurazione vuol dire che l'umanità di Cristo lascia trapelare per un attimo quello che Cristo è veramente, cioè la presenza di Dio, la presenza di Dio resa sperimentabile, resa concreta, tant'è vero che questi è il figlio mio l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. Oh, torna il concetto di ascolto che abbiamo trattato altrove. Anche qui appunto c'è questa differenza fondamentale, perché mentre, che cosa fa Dio sul Sinai? Scrive le tavole. Scrive le tavole e dà la legge, perché tutta la legge viene promulgata da Dio sul Sinai. Poi eventualmente fa il Tempio, fa il tabernacolo, meglio ordina la Mosè di fare il tabernacolo perché ci sia un luogo nel quale Israele possa incontrarlo. Ma, evidentemente, Israele rimane con questa presenza sfuggente nel tabernacolo, con la legge, e qui invece c'è una specie di accrescimento di potenza di questa presenza, perché non c'è più la legge del tabernacolo, infatti non trattende la proposta di... Non ne facciamo di tabernacoli. Non ne facciamo di tabernacoli, viene semplicemente accantonata, non occorre fare il tabernacolo perché c'è Gesù. Perché tra l'altro Gesù è Tempio. Esatto, per cui alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo, per cui la presenza, la compagnia di Gesù, la compagnia della sua umanità, e noi potremmo dire, attenzione, l'umanità di Gesù però non si limita a quell'umanità episodica di duemila anni fa, l'umanità di Gesù è presente adesso nel sacramento che ultimamente innerva la Chiesa, dunque il modo con cui l'umanità di Cristo ci raggiunge è l'umanità della Chiesa e questo è la presenza di Dio, per cui la presenza di Dio diventa la compagnia di un uomo, diventa la presenza di un uomo, non più una legge da seguire, perché per certi aspetti comunque rimaneva questa astrattezza della legge, anche se non può essere ridotta questo, la legge, ma una presenza umana da riconoscere. Quindi quando si dice Gesù rimane, cioè non vido altro che Gesù solo, non è un modo di dire, è andata male, è finita, adesso la presenza non c'è più, ma anzi è un compimento in un certo senso. Da un certo punto di vista sono finiti gli effetti speciali, cioè l'effetto speciale ha avuto come scopo quello di attirare l'attenzione dei discepoli, però poi in realtà quello che i discepoli vogliono, cioè stare con quella presenza, si realizza con una, cioè si è sempre realizzato, ma si realizza in una consapevolezza nuova dei discepoli, cioè proviamo a immaginare, insomma questi qui, dopo aver visto tutta questa roba, e siccome erano lettori della Bibbia e l'episodio del Sinai se lo leggevano più volte. Poi erano sul monte anche allora. Era sul monte, eccetera, eccetera. Cioè immaginiamoci dopo la sera quando sono tornati giù e hanno fatto cena con i loro amici, cosa avevano in mente? Come guardavano quell'uomo? Tra l'altro non ne parlano subito, no? No, anzi viene vietato. Non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo sia risorto dai morti. Però Pietro, Giacomo e Giovanni, che coscienza avevano di fronte a quell'uomo? Noi abbiamo la stessa coscienza di fronte all'umanità di Cristo che ci si comunica nell'Eucarestia e in ciò che l'Eucarestia determina e struttura, cioè la Chiesa. E non dovrebbe essere diversa la nostra coscienza. E non dovrebbe essere diversa la nostra coscienza.